Opere d'arte, fotografie e filmati d'epoca insieme a documenti archivistici e bibliografici per ricostruire le vicende del patrimonio artistico toscano durante la Seconda Guerra Mondiale è quanto propone la mostra Michelangelo Rapito, capolavori in guerra dagli Uffizi al Casentino in programma al Castello di Poppi a Rezzo che insieme al Monastero di Camaldoli e a Villa Bocci di Soci divenne tra il 1940 e il 1944 luogo di protezione per le opere d'arte. La rassegna inserita nel programma degli Uffizi Diffusi è in programma dal 20 luglio al 28 gennaio 2024 con prestiti dalle gallerie degli Uffizi e le immagini dei più importanti dipinti e sculture messe al sicuro durante la guerra. Come ogni mostra si basa soprattutto sulla presenza non sulla assenza ma abbiamo anche qui in questa mostra uno strato intermedio la mostra delle opere assenti presenti ovvero una mostra virtuale. Due punti dolenti è la testa di Fauna a tributo a Michelangelo e la Madonna di Pierino da Vinci, nipote di Leonardo che mancano tuttora. Quindi speriamo anche che ricordando queste opere farà sì che prima o poi queste opere possano spuntare fuori di nuovo. Completa il percorso espositivo una mostra immersiva allestiti negli ambienti della biblioteca rilliana di Poppi. Ne vedremo nelle scuderie un'opera di Lorenzo Costa che ritrae un personaggio Ventivoglio che è relativamente legato a Poppi in quanto poi fu chiamato ad amministrare Bologna nel 1400. Quindi noi abbiamo sempre in queste mostre cercato di legare l'aspetto storico al territorio.